oh ben trovati carissimi amici di safari games puntiti e iscritti al canale prosegue la carriera con il vecchio balordo e in fifa 20 con aggiornamenti su aggiornamenti che si susseguono in quel di fifa in questo caso è stato risolto qualche bug della modalità carriera non meglio specificato alcune specifiche sulle classifiche reti violate bla 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 niente di importante veniamo a noi veniamo alla ciccia nel senso che il grifo concritto alla champions league e il girone recita che siamo con il manchester city valentia di nuovo chievo un bel gironcello di ferro è tutto aperto perché siamo con un pareggio solamente e solo che adesso bisogna cominciare a mettere dei punti in tasca molto seri perché mi piacerebbe qualificarmi per la fase ad eliminazione diretta anche se il primo anno comunque ci crediamo devo dire che il pareggio con i valenzi è stato anche piuttosto sfortunato perché ho preso il gol al 90esimo e rotto e allora sotto Dinamo Kiev come spesso accade mi rendo conto che è un pochino che non gioco a fifa 20 magari sarò leggermente inchiappato cercherò di andarci piano esordo in casa coppa dei campioni Dinamo Kiev come avversario sarà tosta intanto è finito il mercato della serie A vera e sono lieto che Criscito sia rimasto nonostante le richieste di mercato dalla Fiorentina devo dire che ha preso 4 per Dinamo Kiev quindi aspetta una bella spallata per essere spedita tra le meno accreditate a passare il turno e quindi ci crediamo dobbiamo fare una grande partita in questo caso anche se la coppa non è mai semplice pronti ai posti via è una loffa abbastanza tragica Bowen che ha una faccia veramente spaventosa beh non glielo diciamo magari si offende eh non era male come Tros peccato che era un po' basso era un po' dubbio il trattato rivediamo il trattativo precedente la mette in area oh Martinez si trova per infilare Cataldi Castagno eh Tonali rende ciro di se andare o non andare bravo Tonno Tonali qua ci è piaciuto Cataldi può colpire da lì possono passare in vantaggio nooo ho voluto esagerare oh per fortuna che ha messo chiarezza a Madison perché altrimenti mangiarsi un gol così c'è un girone apposta all'inferno e allora Madison col 7 che non dovrebbe esistere però facciamo finta di niente colpito con dei freddo un pallone molto molto potente accanto al palo di sinistra ammazza la crocchia di sinistro per giunta è la pettinatura che lo rende così importante in zona gol certamente sì bene 1 a 0 ce lo prendiamo lo mettiamo in tasca e cerchiamo di consolidare intanto ci facciamo scappare qua l'amico Fritz e non si passa riconquista palla con un contrasto rubido ma regolare ha spazio per andare bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla tutto lo spazio per fare qualcosa di bello ancora lui anzi no castagne questa volta beh devo dire che stiamo andando su molto bene 27esimo 2 a 0 38 castagne non farò battute sulle calda roste anche se mi stava per sorgere il dubbio bam una pietra di esterno primo gol in coppa dei campioni per castagne anche se non è periodo mamma mia mamma mia qua stiamo veramente esondando direi che come prima mezz'ora non c'è male come esordio in coppa diciamo in casa anche qui devo dire che il difensore è abbastanza un minchione perché era davanti o meglio non è difficile maccarlo in quella condizione uno alto come Martinez comunque è uscito anche male il portiere si mette il pallone contro il portiere avversario Martinez fisso al 3 a 0 notte fonda per Dinamo Kiev sembrano ormai avere la situazione sotto controllo comunque non bisogna perdere la concentrazione perché si fa presto in FIFA ecco hai visto? il pallone finisce in rete ma è ovviamente soltanto una consolazione è soltanto una consolazione come ho fatto a prendere questo gol qua con Ndika che alto il triplo di quello lì non è stato proprio saltato ha scelto di non andare sulla palla peccato un gol da minchioni comunque ce lo prendiamo tra 1 bella partita finora un primo tempo veramente d'eccezione è davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria ottimo senso della posizione Pierre eh spazi veramente angusti e vabbè ma 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 fermato questo poteva essere fallo in un mondo ideale c'è il pressing buono tra 1 primo tempo ma in archivio dove dire una prestazione splendida da parte l'unico tiro in porta della Dinamo che è valso l'accorcio comunque comincia ora la seconda frazione di gioco cerchiamo di evitare un ritorno perché prendere un altro significa farle rientrare che dici Bowen? posizione ideale occhio può crozzare è troppo strozzato preferivo che andasse indietro ma ho spiacciato poco il passaggio ho spiacciato i palloni da quella posizione lettura perfetta e palla recuperata Romero non volevo assolutamente darla lì ma ce lo facciamo andare bene prova col filtrante profondo Martinez 4-1 e fiacca le speranze di rimonta beh oltre modo meritato Dinamo Kiev ma in campo a parte quell'unico tiro è il momento di fare qualche cambiato intelligente intanto Bainer Kiev è il sestantesimo minuto tre cambi non vogliamo sentire ragioni via facciamo riposare certi del risultato acquisito ultime però le famose in arrivo lo Stefano entra bene eh mi vuole sapere buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa mamma mia come si piace questo Genoa eh se ci fosse un movimento anche un pochino più intelligente non sarebbe male è tipo quello eh non era male peccato che c'era difensore troppo davanti non sono riusciti a sfruttarlo a dovere la sterzata verso il centro può metterla da lì portiere che può capire bravo Nubel e ti lasciano poi il passaggio tutte le volte che fai il rimorso bam alto di un centimetro ora vabbè ci stiamo anche un po' specchiando in effetti qua si faceva gol è stato questo episodio appena ha cominciato lo registriamo ammazza che schifo lo registriamo quando Genoa ha appena vinto in casa contro il Cagliari con il gol di inossidabile Go-Go-Goran Pandev che faccio presente che quando sono ingradinata tutte le volte che si scalda Pandev cominciamo a lecarsi le dita per scherzare cominciamo a lecarsi le dita come per dire tanta roba però non è che sbagliamo intanto è un grande Go-Go-Goran mazza andiamo a ridere qua eh la madonna l'uomo un uomo questo qua però brutto brutto come fallo gratuito poi Favilli che ha fatto il disvetro si Pia Luigi non accenna nemmeno una protesta e c'è il tiro tira il respinto dal difensore ecco facciamoci gol da soli dai dato che nel dubbio finisce la partita splendida vittoria 4 a 1 che ci porta sicuramente secondo in classifica come minimo e più che altro condanna la Dinamo Kiev ha una un proseguo di girone di rincorsa anche perché ha preso 8 pere in due partite quindi cominciano ad essere complicate la differenza reti le nostre domani merita tutti i complimenti Madison Martinez che gli devo dire è stato straordinario numero 1 assoluto sfide a me piace sempre scegliere i bug anche di una modalità che penso possa essere più semplice da inserire che non si potesse proprio comunque proseguiamo il campionato devo dire che non siamo ancora riusciti a trovare un'identità precisa quindi andiamo sempre un po' attentoni vabbè tutti i convocati nazionali al tornare verranno scoppiati comunque vabbè cerchiamo in bianco ma io penso che ci capiamo anche in rosso per un forse sì dai allora vabbè dai devo dire che stanno più o meno bene via Napoli-Geno partita di importanza molto alta perché può valere un bel piazzamento in avanti partita tostissima perché a Napoli sono tutte toste le partite nella speranza che sia una difficoltà di schema da leggere che sia una difficoltà di uomini e non una difficoltà geometrica, matematica come spesso accade in questi casi con FIFA prenderà subito in mano il pallino del gioco sono curioso bravo qua mi ha steso quello è fallo non posso andare sulla palla eh sì dagliela dopo niente da fare per ora è tosta però per ora è sempre divertente è una delle stelle in capo quest'oggi è certamente uno degli uomini simbolo di questa squadra con i suoi goal l'allenatore se lo coccola e anche i compagni lo gioco spesso sanno che quando un giornata può trasformare in oro ogni pallone anche oggi sarà dura per i difessori mazza che gross di merda un plurapo castagna la mela ahhh pericolo andiamo a ridere qua però eh qual è quello di Martinez che non lo marca nessuno ora non bisogna assolutamente sbagliare e invece invece riusciamo anche a sbagliarla perché non so come mai ma non gli è andata la palla sul piede intanto capito ci mette i pugni e allontana belì fantastico eh grave mangiarsi un gol così dai deciditi che mi hai già dato le palle oh tant'è che ce l'ha fatta eh fuorigioco 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 me lo meni c'è posizione di fuorigioco secondo l'assistente vai castagne non tornare indietro oh cari quella puttana ma perchè sti movimenti qua io non capisco rispetto a prima rispondono completamente in una maniera totalmente diversa e non è una questione di schema perchè lo schema è uguale allora l'avversario è l'avversario allora che influisce sui movimenti dei tuoi perchè se io preparo uno schema a una certa maniera dovrebbe lavorare sempre la stessa no? si Hendrick va sceduto comunque veramente inutile non può essere utilizzato no no veramente troppo scarso prima occasione lo cambio bravo ma è evidente che va così non posso marcarlo urca miseria Criscito come se ne esce eh peccato sei spastico Hendrick parolaterale per il Napoli nella metà campo avversaria risolvere una situazione complessa e la miseria ma come si fa ad entrare così e prendere palla complimenti attenzione perchè è pericoloso Martinez colpito il pallone dal difensore Martinez orco mondo peccato Antonini Cataldi uuuuuh si ne esce Martinez questa è una partita da stu raro a tema ecco è una partita nata nella vena scusate purtroppo averci uno così tanto appiccicato al culo mi sembra eccessivo ci sta tutta brutto primo tempo comunque davvero tignoso ecco come ho fatto a non prenderla poi è un bel mistero anche lì complimenti bel tiro però niente più che avere la palla già nei piedi e non prenderla mi sembra veramente incredibile bruttissimo primo tempo davvero brutto speriamo che cambi qualcosa alla prima occasione cambio Hendrick e Romero Camonito nessuno è riuscito ad approfittarne bravo qui a smarcarsi pallone interessante nooo un momento la prende bravissimo Martinez è veramente fettentissimo in area di rigore ciò dato io per darla indietro incredibile un primo tempo il suo senza particolari acuti nella media la sei pagella sei d'accordo Stefano? non ha disputato la sua miglior gara pochissimi palloni giocabili per lui no no è suo lascia stare bravissimo eccolo lì Martinez meno male che non l'ha presa l'altro perché era fuori gioco tra pareti che minchia ci fa la davanti è un mistero però per fortuna che non l'ha segnato ugualmente vedi perché se la prende l'altro o lo segna come influente è fuori gioco meno male che non l'ha segnato oh non riesco mai a darla tonali quello lì sì che è una difficoltà che mi piace utilizzare perché se ti chiudono tonali allora sì è bello no? perché è una difficoltà di schema da leggere e trovare un'alternativa quello sì che mi piace come le difficoltà questa difficoltà sul ho fatto una cappella oh mamma mia super romagna bravissimo occhio a questo lancio sale destro mamma mia cosa ha preso il portiere dice di no o spina e allora c'ho la punta però adesso eh non capisco perché se ne sta lì nascosto ma occhio al corner facile ah schipezza pressing fastidioso ma non mi permettono mai di darla dove voglio perché c'è sempre qualcuno in mezzo cataldi nooo mamma mia di nuovo cosa ha preso il portiere da un centimetro palla che resta in zona pericolosa però romagna potremmo darle qualche maglia in più da titolare al buon romagna perché devo dire che devo dire che si è comportato molto bene alla fine è cioccato un tocco con un colpo di tacco decisivo alla fine è cioccato a destra dai della mia questa ma non è vero che serve un miracolo serve bastante un fagiolone buono un falletto che ci sta qua è anche bella come punizione e la facciamo tirare a Madison uuu cosa ha preso? bella partita cioè partita bruttina in effetti però una bella vittoria comunque devo dire che ho un pochino rivalutato Bowen sarà anche per la mancanza totale e definitiva di alternative però Bowen è un discreto giocatore poi ci possiamo giocare l'ultima partita contro l'Atalanta Genoa-Atalanta notoriamente partita tosta come tutti del resto non è che si scappa ripallati calcistici straordinario di Serie A in campo Genoa e Atalanta pronti per questo match di campionato che promette grandi cose o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi e ovviamente ce lo auguriamo anche con il piatto raga aiuto cosa sta succedendo? fagiolada vai qua a me non farle finte vai o non vai? ma che cazzo ma che cazzo insieme Bowen è alto peccato piede che non è il suo probabilmente ma che fallo è? e soprattutto a chi? boh misteri di FIFA 20 palla che rimane ancora lì pericolo ottima visione di gioco qui bravo Nubel queste azioni valanga ah non riesco a prenderle non riesco a prenderle potrei darci fino a domani fino a venerdì e ci danno sempre l'oro da l'intervento del difensore Sturaro mai nulla da fare non è finita mamma mia che ninja si infila azione velocissima e anche il portiere si rende conto da che parte passa parte tutta la indica non poteva asciupare questo grosso perfetto dalla fascia eh no andava talmente veloce Tonali al ventesimo 1-0 e la partita la mettiamo in giro nella direzione giusta uh che fastidio di pressing mamma mia Sturaro Criscito Martinez vanno a girare pall attenzione pericolo decisivo qui il tackle attenzione perchè è pericoloso Maddison quame quame 2-0 un dato col top che spiraglio non affrettare i tempi e lasciare i piedi siano gli altri da fare la prima mossa un gol meraviglioso un gran merito del gol va dato all'autore del passaggio ha dimostrato una visione di gioco incredibile Prova col filtratte profondo con chiusura al volo ci stava provarci anche perchè non la scomperò in nessun altro modo eh Martinez raga è fortissimo l'ho pagato un'eresia veramente un'eresia ma vale ogni centesimo fa fare effettivamente il salto di qualità in attacco oh mi ha fatto troppi complimenti però guardalo Genoa che ha tenuto di più la palla finora la strategia scelta dal tecnico Vesta è evidentemente dando i suoi frutti eh oh ma pensate cosa è successo che l'ho fa di colpo di testa è stata ecco il replay dell'azione che vi ha portati al gol non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione uno spettacolo era nel posto giusto al momento giusto la spedita in fondo alla rete davvero un gran gol in suo beh uno splendido primo tempo bravo qui il difensore che legge bene ah peccato ne ne facevamo un altro qua comunque vabbè splendido primo tempo partita in discesa un po' complicato ovviamente il recupero grande distanza fra le due squadre baragna metri attenzione occasione mamma mia alla prossima in coppa abbiamo il Manchester City sarà un ottimo esordio nel prossimo episodio direi occhio al tocco in mezzo difensore spazza in qualche modo pallone invitante a momenti alla prima peccato a momenti alla prima peccato attenzione pericolo super il portiere bravo i miei belli andiamo a ridere qua madonna ma perchè non dovino mai quel passaggio lì tanto che il campione ha lì Benji non può sbagliare da lì mamma mia ragazzi Madison è qualcosa di spettacolare da utilizzare con quella posizione poi da trequartista ci fai quello che vuoi inizia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari e Pierluigi siamo arrivati a livelli imbarazzanti davvero molto bello senso unico senso unico doppie terri tonali per giunte Gomez squadra ospite che sta per effettuare un cambio gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari Muriel Apu Gomez niente era impossibile prenderla ragazzi questa palla qua era abbastanza... doveva finire così non ce n'era non si poteva prenderla ce lo prendiamo lo prendiamo a tabellino per fortuna per il gol del 4 a 1 il classico gol della bandiera Pierluigi posizione ideale vediamo cosa inventa ora opportunità tentativo di pallonetto che finisce oltre la traversa con Martinez prende la traversa sempre tre volte Matteo quanto manca ancora da giocare è proprio quello che mi sa il discorso altri 15 minuti al novantesimo Pier grazie grazie Matteo occhio al tocco interessante no Stefano sentiamo da Matteo Barzaghi eh ci sono un pochino rotti gli schemi sul cronometro mancano 5 minuti al novantesimo bene così Matteo se dovessero emergere altri particolari ovviamente chiedici pure la linea attenzione tutto solo urca cosa ho preso complimenti questo da un centimetro così eh si Pier non può concedersi distrazioni io sono guai Fabilli comincia ad essere abbastanza presentabile come centro avanti nonostante sia un 70 quadro di merda comunque lo vedo che è abbastanza presente come centro avanti uff bam Uda Muriel non era mia intenzione anche se sei uno di quei giocatori proprio che mi sta di un simpatico lo sai quando dici proprio Bellini mi sta simpatico buono 4 a 1 una bella conclusione devo dire che è stata una giornata estremamente prolifica in termini di gol 4 di qua 4 di là e l'1 a 0 col Napoli bene direi che è andata direi che possiamo concludere questo ulteriore episodio e come mai tornare così triste? un'ottima prestazione bene sfide ma che cosa devo dire? sono 4 a 1 ma lascio perdere buono ok dai va in archivo l'episodio il prossimo quasi sicuramente sarà live su Twitch poi ve lo scrivo direttamente nella descrizione intanto seguite mettete il follow a Giganico su Twitch e anche al canale di Safari Games dove vanno gli episodi intanto guardiamo la classifica della Coppa dei Campioni siamo secondi a pari punti con il Manchester City sarebbe bello non perdere la prossima partita cosa meno mettiamo già una bella zampa sulla qualificazione grazie per seguire l'episodio ragazzi e alla prossima grazie